Ho dovuto streamare l'Aldino e il nico, però va bene Sa che riattacca l'Adapter, a volte l'Adapter è il problema A volte succede anche a me Ciao, com'è sta andando Deli? E beh, chi è bellore? È pisello Va bene... Riccardo... Pisdell... Riccardo, perchè non sei qui? Devi venire, se non ci raggiungi, io giuro che Io giuro che Io giuro che Devi venire, altrimenti io giuro che Certo Abbiamo...vogliamo una risposta, Riccardo Una risposta Mio caro Rattis Sì, ho giusto un controllo in più Lo vedo, no, non vedi niente Ti voglio qui Ti voglio qui adesso Eh, dopo la palestra qui Ti fai la docenta E poi... È il controller del popolo quello Rai Se chiamo un posteggio in fretta... No, tu passi tutta la sera Tutta la sera Ti fai la doccia in palestra e vieni qua No, non riesco Sei Per la doccia qua e vai in palestra Sei Non ha piangino Se no piangino Piangino E iniziamo E iniziamo questo fantastico set Devo fare certo Doposcena Vado, non lo so Veniamo Iniziamo Di nulla Di nulla Il controller di... I commenti che ci siamo nostri che dei player Bene Iniziamo Primo elettrico del gioco È per smash È i fantasmi Praticamente una farfalla che c'era lì Che stava veramente sul coglione Probabilmente si Oppa la È il numero 2 69 29% subito Ancora Ancora Nessun Nessun attacco Va a segno Da parte del nostro intero leggendario Che si becca un altro Wind God Giusto senza elettrico E intanto la pressione Oh In modo lo sfrutta il tempo giustissimo Vediamo cosa succede Non sfrutta l'occasione Del mancato Però Ci tenta Down air Però In maniera da Tentare il giusto Comunque quella ferra Che era assolutamente Non entrato Ma manco per spagna La spada è lì per Per personalità E comunque ha ripareggiato la percentuale Si Da kill a me E non solo Diretto Reversa completamente la stock Il nostro fello del gioco Si porta a casa del primo Però Subito even Siamo even Vediamo se Fa la magia il nostro Che lo prezzo Inizia di arrido il skin lui Attenzione Dopo wave Siamo Ok Non continua Non continua però Felipe Cerca di pressare Da un air che punisce il tentativo che sta smash Devo dire hard lead Di un eventuale Down air Un pre-fire Che non è mai arrivato Non punisce Troppo lenta l'opzione Invece Ti pelato Non prende Non prende Non prende Invece a sfruttare l'occasione che Mi viene data da quella Per raggiungere Niente Gli ha regalato la race drive Non luce Eccola qua Il regalino E' appena arrivato Buon compleanno Mi regala un bel che io E una bella combo che trovo Non è entrato in tutto Niente Tenta il trottolino Esatto il trottolino Tenta il trottolino il nostro caro Gregoman Ma Evidentemente Dario sa parare E' basso e subito lo follow a fuori Zero Non può intentare Ci sta Ci sta Unito Si aspettava Un stalling all edge Un eventuale strappo Eh si Era un po' la classica cosa che stava facendo Pensava di essere safe Invece Mensa l'elettrico Mensa l'elettrico Cavario che ci sono a top Ancora Gimp Ancora non entra Attenzione L'ho già Nooo E' un tentativo molto pazzo Ah tocca la piatta Quindi tu per il salto H3 per smash Senza sapere Bel mix up Cerca il Dale? Il Fermano Un fermo preciso Tira un po' di Vipbox il nostro caro Dario E' entra la tua Ma non killa Perchè non è Non è la rage drive 1,8% In più Raggi avrebbe fatto la differen- Attenzione Recoveri non punita La rage drive Non è stato un errore Non è stato un errore Vediamo attenzione Non la tenta Non la tenta Non vuole rischiarsela Vieni via Non è kill garantita A smash Ha piuttosto ritirare la rage drive Di nuovo Pulito di nuovo La stessa cosa Lo stalling Non nerd o Già Perfetto Non rischiarsi la smash Perfetto Siamo di rischiare il caro Quai Vipbox Dario sta mettendo il disavvallo Sugo Skydale Sugo 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 me la radio Se ragazzi McLook Se il commentario non è cringe Non cosa ci siete vita a fare ragazzi Comunque il microfono come va Buono E' qualizzato bene Un po' il rate non lo so su bai me la radio da me si sottofondo per la palestra per la palestra che king benciando con ikno smash ti saluta ti saluta il nostro caro gredo subito su karos se in particolare la scelera contro cazzurri esatto in ogni caso ha lasciato kazuya ok ora si spiegano molte cose kazuya ha perso finisce di lui in una prova contraria attenzione aspetta tutti i piccoli follow up nero uno mio fratello è claudio mio fratello è in crisi sui giochi attenzione l'armor non è l'armor è l'armor dell'hombi bambini attenzione non tenta il lock subito diretto cattotto nel mento lingua tagliata wave dash wave dash 1 attenzione attenzione entra di nuovo il dare ma c'è attenzione attenzione l'elettrico non entra è un po' rischioso però comunque il panico è un po' rischioso è un po' rischioso però comunque il panico è un po' rischioso è un po' rischioso vediamo un po' non tecca 1 1 2 esatto 1 1 2 è sempre forte la stringa mi scima vediamo se sta entrando a vedere no non riesce a entrare da un flash build non entrava in ogni caso 169% esatto come la scelta di lasciare kalos a kazuya è stata la migliore dell'idea insomma ma manco per nulla vuoi fare un commento su quella di ai vabbè di ai la rage ci sono tanti fattori esatto anche qua l'assenza di rage più kalos esatto diciamo che è veramente l'altro e kalos e la kazuya non è il più 208% ecco abbiamo il nostro kalobowser in realtà non ci piace il kazuya nooo cos'era? non lo sappiamo in ogni caso kazuya di 217% c'era la scelta c'era la scelta c'era la scelta c'era niente madonna che triste 1 a 1 oggi il nostro caro Dario ha imparato una lezione importante kalos kalos no io dico ok è intuitivo perchè kalos e kazuya hanno la stessa iniziale k a quindi comunque lì guarda qua c'è una certa signora quindi ti viene in mente devi memorizzare esatto ma quella è gabriel bros ciao gabriel gabriel opinioni post esatto opinioni sul band di steve opinioni sul band di steve gabriel bros ma accendiamo il fuoco dell'acciato si chi 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 finora il nostro teatro leggendario come l'ho detto la wiffa vabbè come è detto il tuo se devo stare zitto trottolino mi sparo ma penso onestamente che sia troppo con quella tech ci sta e credo che sia l'opinione più corretta che un ultimo che possa avere perchè comunque ci sta spararsi perchè hai preso il nuovo pg lo stavi giocando sta divertendo però c'è un po' sbagliato con questa cosa come se l'è tancato finisce subito con il tilt ripareggiando subito la situazione stiamo commentando qua il nostro caro match sbagliato nel legionario nooo devi dirlo devi dirlo sta lavorando sepiro eh spoiler scusa ci siamo vedati in ogni caso tenta il pinnip non lo so se su cazzuia quella persona sarebbe stato un figlio visto il peso però con la rage probabilmente si uh attentato non entra per un pelo metto il crime ehm non punisce l'herdo è strano ma vero un po' una città particolare se il mi non entra l'ultimo troppo sweet spot non riesce ad entrare e a bombare la stop in ogni caso il nostro carario non perde la stop ultima di ai da parte sua è arrivato il nostro caro tenores di tokyo tenores di tokyo canta zasseri canta zasseri canta zasseri canta zasseri e ti entro perfetto a parte il nostro caro canta zasseri che non becca non riesce a fare non riesce a fare non riesce a toccare quelle no non ci arriva attenzione attenzione mal di pancia nooo non entra il punish dopo il mal di pancia ha fatto un ottimo attack chase nella piattaforma il mal di pancia si è un po' si è un po' spaventato probabilmente era molto molto clean devo dire no per poco non trovo with punish con la meravigliosa invincibilità del trottolino mossa assolutamente giusta si perchè tra lui ha l'invincibilità su almeno la metà delle emozze half throw non entra vediamo un po' se riesce a rigiostarsi la situazione su caro daio half throw non kill manda direttamente all'anno ultima di ai 205 half throw 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 è un bel figa è un bel figa la kill no 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 e gretelman prende il secondo game cioè il secondo game il terzo game secondo game contro raskus po' 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 non posso ripetere questo meraviglioso francesismo ma l'ho detto l'ho appena detto io ovviamente po' 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 called due ci puoi dire due un'assido può dire quelle che vuole due uno c'ha due scritto Deux vabbè Kazuya mata io quello che fa stop chat fa volare tutta la gallura vabbè abbiamo qua gente un po' biased galluresi andiamo un po' andiamo un po' elettrico non entra all'elettrico Un altro è lui, il journal Ma Rano che fa su 10 minuti Dai, per favore, se passi ti fai pure un po' di commenti Vediamolo un po' 1-1-2, 1-1-2 Inolazione di edge trap, perfetto F-Tilt Legge perfettamente Laro, non entra il down smash, ma non credo... Sostanza up B, non killa, ultimo DI Bestro? Oh, perché volevo dire... Inolazione di edge trap, perfetto F-Tilt Legge perfettamente Laro, non entra il down smash, ma non credo... 0-1 E' un like fora d'arga Eh? Smash ti per fuori dall edge 0-0 No, non entra da il der fill Qua c'è già.. topozione Buuuuf fuzzino Attenzione, Fer, Fer Non continuo al... il gimp ci sta, non voleva rischiare Down throw... non tendo la pera... aspetta, però La tech sull oscuro come counter è l'opzione di Dario Ok, con la tech nonprofits Eletico che si sbatte via, Dario Mettendolo in una posizione un po' scromoda Cazzo è una riconoscenza evidibile, lascia stare Attenzione, 6B, non entra il tipperino Però entra quello del fair, vediamo un po' Beta l'air dodge, non entra il backer per pochissimo Forse un fair l'avrebbe preso Va super deep per cui tornare Per un pelo di fulbright, per un pelo di marzo Primo colpo, tipper, secondo no? Per non tipper Super deep Mi sono gasato Attenzione Dario, Dario Ah beh, ci sta Dario è free No, è free Esatto, esatto, c'è la virgola Forse c'è la virgola Chi è? Chi dei due sarà fienti? Non lo sapremo Claudio sniper Attenzione Galluran sniper Galluran Gallurish Gallurish Take combo Entrano in Compia la take combo A buffo Come si dice in termini tecnici Ma ha detto da base avanti ieri Ragazzi è freezzato Eeeh Eeeh Cazzo Ma io credo che sia senza problema E' freezzato Frizzato Ok c'è freezzato a Raskus Ti ha fatto panicare Actually Vediamo un po' Questa il gimp Non entra il dei però Sei lì molto Oh Va di due tecca Ecco qua I I Questo era l'amiche 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 Ma teccato Ma teccado Ma teccado Ma teccado 2 a 2 E' 2 a 2 Eh si e' Polica Seeeo Seeeo Seeeee Seee Ehehehe C'è il miseric Ma c'era il miseric C'era la R Ma c'era la lucha Si Si Perdo 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 Perso due game Perdo Attenzione Mureti Per niente E' bias Mureti Il CEO Più bias Della storia Vediamo un po' Subito Entra il fair 14.4 Di fair Mamma mia Il post entrato Quella non era A ascoltare parole Che nel senso mai dirò Subito Non rassurro Attenzione Detta il juggling No no In realtà veramente Però comunque up to backer Il marzo di Dario Il marzo di Dario L'ha fatto davvero Alle mille faccio buffe Bravissimo Dario La faccia a buffa di Dario E' ha tipato di nuovo Tippererà un'altra volta Lo farà un'altra volta? No? Vediamo? Sii Fallo un'altra volta Lo scopriremo solo vivendo ragazzi Solo tipperando Tipperando nel pulso Guardate com'è minaccioso Cazzulli avrebbe fatto avanti a niente Si Peria! L'app smash che probabilmente avrebbe preso la stock Per poi fare il suo Cambiato il tutto Andrea Cucci Moree! RONDO More la borsetta Aspettino di guardare l'Inter Allora Basta Questo momento di sclero Il minore di Mirko può anche finire Elettrico Non entra Elettrico Non entra Vero elettrico Tenta al solito punish Non entra Era un po' troppo alto Il mio caro Rendomen Che si prende un bel quarantone Di percentuale Guardate Per Fer Al salto Al salto Alla recovery All'herdodge Entra e torna e torna Perché cazzio Matto Tenta Il punish Una bella Arbori La stock Io lo dico Ma Un po' la sgravata No ma Lo uso molto Molto For fun Molto divertente Si E' molto divertente Usarlo Usarlo si Usarlo si Usarlo è divertente Subirlo un po' meno Eser usato Ti usa proprio Eser usato Ti usa come Sacco d'allenamento Quello si La misery Il tasto R Il tasto R difettoso Di Claudio Che ci ha dato problemi all'inizio del set Forse ancora difettoso Chi lo sa Naturalmente ancora difettoso E' verde un po' C'è una situazione di Ma le lunghe Si stanno succedendo Cosa E' trova verde Questa è la E' la tua misery Voglio vedere La tua misery di oggi Perchè Cazzo è il tuo vero enemy Risparmia Risparmia La compassione Tutti quanti Non essere Il suo nemico Attenzione Quel backer Non c'era Non c'era Non c'era Non voglio più amici Voglio solo nemico Spero Lo piazza giusto Ma Cazzoia Non vuole morire Pergli il laserino Ce l'ha No Non pulisce Era lì Era suo Però comunque se lo ottiene Non fa niente Non fa niente Avrà altre occasioni Bisogna fare attenzione Prima di Cazzoia che E' Ivan Si E' Ivan E' praticamente Ivan Perchè comunque Basta ben poco Per Per ribaltare Per Purtroppo Per fortuna Entra di nuovo Esatto Per Abbringato l'air dodge Per pochissimo Per farti Per però l'air dodge comunque non arriva E chiude così E quindi si chiude L'ultimo game Con la vittoria Per niente C'è Molto Devo dire Un set molto bilanciato No dai C'è Si è equilibrato Si è equilibrato C'è L'ho vista entrambi in difficoltà Menti Molto caro C'è